Un'alta velocità a servizio dell'intero paese è il grido che questa mattina si è sollevato da Piazza Ferrovia Salerno, dove hanno manifestato i rappresentanti del circolo 24 agosto per l'equità territoriale. Una protesta partita inizio giugno da Reggio Calabria e che di settimana in settimana ha interessato anche le città di Vibo Valencia, la Mezzia Terme, Paola e Maratea, fino ad arrivare a Salerno, dove i promotori hanno ribadito a gran voce il proprio pensiero, chiedendo sistemi di finanziamento anche per le regioni del sud in materia di rete ferroviaria. Manifestiamo contro l'ennesima bufala, l'ennesima presa in giro, l'ennesima operazione di facciata, che è l'annuncio dell'alta velocità nel tratto Napoli-Reggio Calabria, con due treni di alta velocità, che fanno in effetti, come tutti sanno, a partire dai nostri politici, il lavoro di intersiti, perché non viaggeranno mai alla velocità massima di 350 chilometri, che è la velocità di tutti Frecciarossa d'Italia. Negli ultimi dieci anni lo Stato italiano ha speso miliardi, tutti al nord, mentre al sud continuiamo ad avere una rete ferroviaria quasi ottocentesca. La Calabria è un simbolo in realtà, perché sotto Battipaglia c'è in realtà tutta, tranne per poco il territorio che è attraversato per poco, quello della Basilicata. Poi ci sono i circa 400 chilometri in cui la tratta Battipaglia, il tronco ferroviario Battipaglia-Reggio Calabria, la traversa con una linea a doppio binario, che però ha delle cosiddette velocità, che non sono quelle ad alta velocità. Grazie.